Buonasera, sono Silvano Lamonda, sono amministratore delegato della GeoCup, un'azienda che produce i prefabricati in Cacestruzzo. Ho partecipato al corso Win the Bank leggendolo su una testata giornalistica nazionale, quindi mi sembrava già solo per questo un motivo di interesse. Ho approfondito la conoscenza del corso e le tematiche affrontate mi sembravano opportune. E quindi ho deciso di iscrivervi. Mi sono iscritto, ho partecipato a questi due giorni con l'attore Marvezzi e l'attore Bolla, è un ottimo corso dove danno consigli pratici e di vita quotidiana di noi imprenditori. Quindi lo consiglio eventualmente per chi ha una gestione ordinaria e quotidiana con il mondo delle banche.